buongiorno a tutti e benvenuti a questa presentazione del nostro software cpu in attività che rappresenta l'unico software oggi in italia che risulta essere approvato dalla rete delle professioni tecniche cioè l'associazione che riunisce i presidenti di tutti gli ordini professionali consigli nazionali che ha fatto un bando e ha riconosciuto cpu in attività come un strumento di aiuto per i professionisti soprattutto nell'ambito della progettazione con il codice di prevenzione incendi che cosa vedremo oggi vedremo tra il nostro ampio parco software e vi invito sia durante la presentazione sia nel corso della giornata a contattare i nostri commerciali che vi aspettano per fornirvi tutte le informazioni in merito commerciali sulle offerte in corso in questa settimana particolare del dell'anno quello che vedete tutto il nostro parco software noi una parte relativa alla gestione di quella che la le attività quindi la prima parte la pratica da andare a presentare ai vigili del fuoco vedremo oggi che cosa la soluzione namirial per quanto riguarda l'applicazione del diciamo della dell'aggiornamento recente normativo che interessa e che amplia l'ambito di applicazione del codice di prevenzione incendi per quanto riguarda tutti i luoghi di lavoro in particolare il cosiddetto mini codice quindi andremo a vedere come si va a realizzare l'iter di presentazione della di rivalutazione del rischio incendio all'interno della nostra attività lavorativa secondo i dettami del 3 settembre 20 21 che ci dice che se l'attività chiaramente soggetta quindi rientra nell'ambito di applicazione del dtr 151 l'andiamo a trattare come con come facevamo e come facciamo già adesso con il codice di prevenzione incendio la sua rtv altrimenti dobbiamo andare a fare a che cosa andare a verificare se la nostra attività rientra nell'ambito di applicazione del cosiddetto mini codice e quindi i requisiti indicati dal legislatore dopodiché la guida inel ci dice a seguito della valutazione del rischio che ricordi un obbligo della torre di lavoro non che prescindibile quindi non derogabile dobbiamo andare a effettuare le misure compensative per il nostro rischio e queste le possiamo andare ad applicare o seguendo i dettami del 3 settembre cosiddetto mini codice o in alternativa utilizzando il 3 agosto la rto 3 agosto 20 2015 vedremo come con l'utilizzo del nostro prodotto software questo eventualmente passaggio dalla applicazione del mini codice all'applicazione del 3 agosto 2015 risulta essere in automatico andremo semplicemente ad aggiungere quelle informazioni che non sono presenti che non sono richieste dal decreto 3 settembre come ad esempio le strategie s1 e s2 che non sono diciamo tenute in considerazione iniziamo a fare un nuovo progetto e qui andando semplicemente a fare un nuovo possiamo in prima battuta andare a selezionare o il singolo prodotto quindi ad esempio potremmo partire mi serve esclusivamente andare a fare andare a confermare andare a valutare a rivalutare perché il 3 settembre 2021 richiama il decreto legislativo 81 che ci dice guarda che la valutazione del rischio e l'aggiornamento non è automatica ma va fatta se si vanno a presentare delle condizioni particolari e nell'ambito antincendio queste condizioni particolari ad esempio sono quelle richiamate dall'allegato 4 del decreto 7 agosto 2012 modifica gli impianti ai processi un cambio del carico d'incendio una modifica layout e così via quindi potenzialmente potremmo già iniziare a fare un progetto diretto di sola ed esclusiva valutazione del rischio di incendio all'interno della nostra attività che ci consente di andare a fare così come potremmo fare il semplice progetto del piano di emergenza perché i decreti del 2 e 1 2 e 3 settembre hanno rivoluzionato hanno completato diciamo il decreto legislativo 81 e ci obbliga obbliga il datore di lavoro e poi andando a chiaramente come ben saprete a discriminare in base al numero di dipendenti e in questa settimana avrete modo di poter valutare apprezzare approfondire tutti i nostri prodotti tutte le nostre soluzioni tecniche per quanto riguarda i vari pacchetti relativi a tutto il parco normativo in italia nei vari settori e vi ricordo che anche adesso potete eventualmente già contattare i commerciali per dei chiaramenti in merito partiamo direttamente nel caso in cui noi dobbiamo affrontare un'attività che conosciamo che è già un'attività non soggetta al codice di prevenzione incendi quindi quella che è il nostro piccolo ufficietto rispetto a quello che potrebbe essere per dire la piccola pronto uoci sotto casa rispetto al piccolo supermercato e così via possiamo già partire con il progetto attività mini codice quindi il programma fondamentalmente già si predispone andando ad inserire delle informazioni standard che sono che e quindi noi la chiamiamo e anche qui in questo caso ancora di più ed è la bontà del prodotto quello che ha premiato la parte della rete delle professioni tecniche il software cioè la progettazione assistita noi la chiamiamo una progettazione guidata perché questa affermazione lo vedremo e lo capirete durante la presentazione perché ogni qualvolta noi andiamo a inserire i dati e l'inserimento dei dati è guidato perché semplicemente noi abbiamo un elenco a sinistra e abbastanza in maniera intuitiva andando a fare clic sulle voci che sono a sinistra noi andremo a riempire quelle che sono le informazioni relative alle specializzazioni nel caso specifico della schermata che stiamo andando a visualizzare dell'edificio con ad esempio quella che è la specializzazione delle piastre sovianti quindi qui andiamo già nella definizione del codice quello che dice che i bersagli quello che riguarda le distanze di separazione nel capitolo S3 oppure la verifica di che cosa? La verifica del luogo sicuro quando il codice ci dice che se il mio luogo sicuro risulta essere su pubblica via devo semplicemente andare a... non viene diciamo... come dire... non è richiesta nessuna tipologia di verifica all'interno della nostra attività mentre se il mio luogo sicuro risulta essere codificato come una... come dire... come una... uno spazio scoperto scusate... ecco che a questo punto occorre fare una verifica dell'irraggiamento che si ha su questo punto e questo viene fatto attraverso la costruzione delle piastre, piani radianti, del bersaglio e così via e questo avviene attraverso... chiaramente non è una informazione richiesta dal mini codice però andiamo a inserire un luogo sicuro e gli diciamo che è su pubblica via a questo punto già il programma si presuppone avendo inserito un'attività che lui ha codificato come un'attività che si svolge sul luogo di lavoro ed è un'attività che in prima battuta presuppone perché noi andiamo a predisporre il software andando a... a dire che dal nostro punto di vista siamo nell'ipotesi o ipotizziamo che sono rispettati tutti i requisiti perché la nostra attività attività... il nostro luogo di lavoro è un'attività che è classificabile a basso rischio ed in particolare ipotizziamo già che chiaramente... ed ecco la bontà poi del prodotto che tutte queste ipotesi, cioè che l'affollamento complessivo sia fino a 100 occupanti ovvero la norma ci dice nelle note a qualunque persona che si trova a qualunque titolo all'interno della nostra attività. La superficie lorda complessiva sia fino a mille metri quadri non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative ecco che qui già il legislatore ha alzato un po' il livello di classificazione della valutazione del rischio rispetto a precedenza. Perché? Perché ci dice che i combustibili sono in quantità significative quando il valore del cubone F risulta essere maggiore di 900 megajoule sul metro quadro. Ecco perché per fare una corretta valutazione del rischio all'interno della nostra attività seguendo il minicodice necessariamente ci dobbiamo calcolare il valore del carico di incendio all'interno della nostra attività e vedremo come questo passaggio viene fatto in automatico all'interno del nostro prodotto e vedremo come è proprio in maniera del tutto automatica. E quindi questi sono i requisiti. Dopodiché compare un flag rischio calcolato che in questo momento non è calcolato perché non abbiamo inserito ancora nessuna informazione come vedete se io vado ad ampliare l'albero a sinistra dobbiamo andare ad inserire le informazioni avremo il nodo valutazione del rischio che andiamo ad effettuare con il nostro metodo che è stato riportato integralmente come uno dei metodi riconosciuti a livello internazionale nella guida INAIL. Quindi l'INAIL ha detto guardate che il metodo che è stato proposto da Namirial ma noi ce l'abbiamo già dal 2010 questa tipologia di metodo a griglie con una valutazione di tipo semi quantitativo può essere utilizzato, viene riconosciuto come un metodo applicabile nel caso specifico di confermare, perché questo è quello che dice la norma, occorre confermare la valutazione del rischio cioè i requisiti di applicazione del minicodice stesso. Vedremo ora come si fa. Quindi dopodiché ci troviamo nella sezione dati andiamo a scegliere il tipo di intervento, ad esempio una modifica alla nostra attività all'ubicazione e così via. A questo punto andiamo a fare proprio la valutazione del rischio quindi che è relativa alla intera attività. Quindi andando semplicemente magari andiamo già a salvare il progetto così da scatenare come vedete già nella demo web lo chiamiamo 2111 come vedete già la bontà del software a destra mi compaiono delle segnalazioni in particolare ad esempio in questo momento mi dice attenzione impostazione del tipo di verifica non ammissibile non è possibile considerare il luogo di lavoro a basso rischio e se vado a fare clic sul messaggio scusate il programma mi posiziona sul qual è il punto che non è derogato questo perché mi dice perché ancora non è stata effettuata la conferma su quello che è il rischio calcolato quindi non hai verificato che effettivamente sono rispettate le ipotesi luogo di lavoro a basso rischio incendio secondo il decreto 3 settembre 2021 ma l'inserimento delle informazioni all'interno del rischio calcolato ancora non sono state inserite. Andiamo a vedere quindi come si fa vediamo quindi l'automazione, vediamo quindi l'ottimizzazione dell'utilizzo di un software integrato nella sua complessità di problematica legate alle varie normative chiaramente io in qualunque momento posso avere magari la mia attività che è il luogo di lavoro non mini codice però io semplicemente potrei tasto destro andare ad aggiungere una delle altre attività che sono presenti all'interno della normativa italiana quindi io potrei collegare magari ad esempio il mio gruppo elettrogeno o avere altre attività collegate all'attività principale quindi io ho la possibilità di poter andare a scegliere un'altra attività lavorativa non soggetta collegata alla mia attività principale una delle attività che sono dotate di specifica norma tecnica e dove esiste la possibilità del doppio binario ad esempio per quanto riguarda le attività ospedaliere oppure i grandi magazzini la possibilità di poter ancora andare a discriminare la scelta di poter operare con le vecchie norme cosa che ormai sta andando a scomparire in favore di un'applicazione del codice integrale perché abbiamo a che fare con un'unica norma con un unico decreto in cui le varie RTV come ci dice il codice stesso vanno ad integrare o a sostituire in particolare vanno sempre a sostituire quelle che sono i livelli di prestazione quindi è il legislatore nel caso specifico delle varie RTV che mi va a sostituire invece dei criteri di attribuzione dei livelli di prestazione per le varie strategie antincendio mi va a fornire quelle che sono le informazioni ma ritorniamo quindi al nostro prodotto quindi siamo nella valutazione del rischio andiamo semplicemente a premere sul pulsante valutazione del rischio che equivale semplicemente anche andare a cliccare nella parte in alto quindi della maschera ma attraverso la sezione semplicemente del pulsante noi ci ritroviamo quindi nella sezione specifica in cui viene fatta la valutazione del rischio per fare abbiamo detto ed è importante andare a fare la valutazione del rischio e risulta essere basata su che cosa? su un aspetto che risulta essere una sezione legata intanto al valore del carico di incendio specifico di progetto all'interno della nostra intera attività e poi abbiamo una suddivisione tra quelle che possono essere i fattori moltiplicativi ai fini della valutazione del rischio che abbiamo poi suddiviso in velocità della combustione le tossicità dei prodotti probabilità di innesco e di danni alle persone e invece abbiamo poi suddiviso l'analisi prendendo in considerazione quello che ci aiuta nella valutazione ovvero i fattori di compensazione quindi le caratteristiche dell'edificio le procedure operative di sicurezza le probabilità di innesco manutenzione, allarme e così via quindi in prima battuta andiamo a determinare come si calcola il carico di incendio quindi abbiamo la possibilità o di scegliere o dalla mia precedente valutazione del rischio il carico di incendio non è cambiato quindi io posso semplicemente andare a dire al programma calcolo del carico di incendio manuale quindi vado semplicemente a reinserire il valore oggi esistente quindi attivo il check semplicemente vado a premere sul pulsante carico di incendio mi vado a spostare nella sezione specifica del carico di incendio questo perché e qui vado ad inserire il mio QF e QFD ed eventualmente la classe richiesta e qui abbiamo implementato una nuova funzionalità molto potente all'interno del programma ovvero la possibilità di poter per questa specifica attività ma per questo specifico compartimento la possibilità di poter già andare a fare una valutazione tabellare nei casi in cui questa è richiesta nei casi in cui vogliamo applicare questa metodologia per quanto riguarda la verifica tabellare delle strutture quindi semplicemente abbiamo qui un elenco noi possiamo fare tasto destro nuovo elemento costruttivo e quindi andremo poi a scegliere il tipo di elemento e quindi la specifica tabella della norma e quindi andremo ad inserire a specializzare questo tipo di informazione e la verifica verrà fatta sulla base della classe che è stata inserita in questo caso manualmente se invece togliamo il flag all'interno del nostro software avremo ad andare a specificare questo magari lo facciamo poi per il compartimento andiamo a vedere come si va a calcolare manualmente il carico di incendio quindi avendo definito manualmente il vecchio carico di incendio presente all'interno della nostra attività possiamo ritornare nella sezione valutazione del rischio ed ecchio che il valore che abbiamo inserito viene automaticamente riportato all'interno del nostro carico del nostro progetto di valutazione del rischio a questo punto andiamo a specializzare andiamo a rispondere alle domande velocità della combustione le lavorazioni prevedono l'impiego di gas letano GPL ipotizziamo che noi abbiamo a che fare con il nostro piccolo supermercato che magari ci dà un pronto cuoce e così via quindi io posso dire sì ad esempio c'è gasolio no benzina no le lavorazioni quindi andiamo presente di aree con alto valore di carico di incendio gli mettiamo no e andiamo a confermare quindi andiamo semplicemente a distinguere a rispondere alle varie domande nelle varie sezioni che ci vengono portate all'interno per la necessità delle lavorazioni vengono effettuate operazioni di taglio affilatura saldatura gli posso dire sì taglio ad esempio come potrebbe essere l'operazione di taglio dei prodotti alimentari in uso quindi estesa in questo concetto fiamme libere gli posso dire sì perché c'è magari l'apparecchio della cucina oppure no e così via probabilità di danni alle persone presente la possibilità di apparecchiature danneggiate sì potrebbe accadere perché magari non ho tempo per poter fare la corretta manutenzione la presenza di sostanze molto tossiche no esiste la probabilità di danni alle persone sì quindi andiamo semplicemente sto qui facendo vedere delle domande così a campione all'interno del nostro diciamo prodotto quindi semplicemente per ciascuna delle sezioni che sono presenti all'interno quindi in questo caso andremo ad analizzare quelli che sono i fattori di compensazione quindi andremo a rispondere allo stesso modo come abbiamo fatto quindi andiamo a studiare andiamo a discretizzare questa questa valutazione andando a costruire come possiamo dire un vestito per la nostra attività perché dico un vestito? perché chiaramente noi diamo la possibilità ed è un qualcosa che il codice di prevenzione di incendi ha introdotto ovvero il giudizio esperto cioè la possibilità all'interno del nostro del nostro programma di poter inserire per ciascuna delle sezioni la propria esperienza quindi noi possiamo trasferire all'interno del programma tutta una serie di domande per ciascuna delle sezioni fattori moltiplicativi o di fattori di compensazione che vanno a specializzare vanno a costruire un'analisi che viene diciamo focalizzata che viene proprio come dire un attimino che ho visto che c'è intanto una domanda ora vi rispondo quindi completo questo quindi possiamo andare a specializzare la nostra domanda la nostra valutazione del rischio quindi andiamo a rispondere anche in questo caso rispondo a campione a tutta una serie di domande in ogni caso potete magari successivamente contattare i commerciali che vi mandano il link per poter scaricare e provare il nostro prodotto alla fine andiamo nei risultati e quindi il programma ci dice guarda che l'analisi semi quantitativa e sulla base delle condizioni che abbiamo visto ci dice che il rischio calcolato risulta essere non basso rispondo un attimo a una domanda che risulta essere uguale ma se devo fare la valutazione senza sapere il carico di incendio e pregresso il carico di incendio per fare questo tipo di valutazione del rischio risulta essere necessaria la valutazione del rischio con metodo semi qualitativo ci necessita del valore del QFD non solo il valore del carico di incendio risulta essere una condizione fondamentale per poter rispondere a che cosa se ritorniamo alla sezione attività e quindi nella sezione specifica richiesta di applicazione del minicodice il fatto che non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative la norma ci dice se la andiamo a prenderci è proprio una nota perché perché si chiama minicodice perché hanno estrapolato tutte le condizioni tutte le impostazioni dal codice di prevenzione incendio li hanno ridotte togliendo alcune alcune strategie non si identifica i livelli di prestazione non c'è riferimento alle rvd e così via però hanno inserito delle note esplicative proprio perché diciamo tra virgolette il target è il datore di lavoro il datore di lavoro leggendo il decreto relativamente alla nota alla voce alla condizione non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative ci dice quando il valore del cupone F non è superiore a 900 megajoule su metro quadro quindi necessariamente per poter già andare a dire che la mia valutazione rientro nell'ambito di applicazione del 3 settembre è sempre necessario andare a fare il calcolo del carico di ingegno che non conosco e ora vediamo quando andiamo ad analizzare il compartimento come questo si può andare a fare con la nostra soluzione software completamente integrata all'interno del prodotto stesso quindi abbiamo risposto siamo nella condizione diciamo ora che il rischio è non basso andiamo ora nella specific quindi andiamo a seguire sempre la lingua sinistra e andiamo ad come dire specializzare nella nostra informazione chiaramente qui il programma ci dà un warning attenzione rischio non basso è vero che rientri nell'ambito di applicazione rischio non basso attenzione non possiamo verificare secondo l'allegato 1 del 3 settembre ma ora ci andiamo a ritornare quindi in questo caso andiamo a specializzare ora le informazioni della nostra attività commerciale del nostro luogo di lavoro quella che sia nello specifico quindi abbiamo una sezione che mi dice questa tipologia di informazione quindi abbiamo la superficie del piano ad esempio che è di 250 metri quadri numero di persone presenti ipotizzabile come massimo affollamento previsto supponiamo che sia 15 persone l'altezza del piano gli mettiamo 2 metri 80 e così via andiamo a specializzare questo tipo di informazioni diamo informazioni su quelle che possono essere le uscite di sicurezza presenti all'interno della mia attività guarda questa è un'uscita ingresso è larga 0.9 la lunghezza di esodo però è 36 metri l'adduzione è su pubblica via e il tipo di ingresso è apribile verso l'esterno quindi l'ingresso funge anche come da possibile uscita di sicurezza a questo punto do anche delle informazioni sugli estintori quindi vado noi di default il programma già mi suggerisce quello che è la norma e il minicodice e mi dice attenzione è consigliabile andare ad inserire questo tipo di informazione ma chiaramente io posso andare ad inserire qualunque tipologia di estintore all'interno della mia attività a questo punto andiamo nel cuore del programma cuore del programma che come dire è anche il cuore del programma per quanto riguarda anche la parte di progettazione delle attività nella sua visione più ampia o legato al codice di prevenzione incendi o in generale legate alle norme dotate di specifica regola tecnica verticale perché possiamo utilizzare oggi abbiamo 50 attività che è possibile progettare con il codice di prevenzione incendi altre 30 che alcune sono dotate di specifica regola tecnica per la loro trattazione quindi andiamo a selezionare la voce vi ricordo poi sempre in questo momento per chi magari si affaccia diciamo e cerca una soluzione o anche una sostituzione del prodotto attualmente in suo possesso con la nostra soluzione che nell'ambito della settimana del break friday ci sono degli sconti e oggi sul pacchetto che stiamo vedendo si arriva uno sconto fino al 40% e quindi se volete contattate i nostri commerciali in qualunque momento quindi il software cosa ci dice progettazione guidata a sinistra mi dice dobbiamo analizzare il compartimento e per quanto riguarda il mini codice dobbiamo andare ad analizzare che cosa il capitolo S3 la compartimentazione la S4 la S6 S7 S8 S8 andiamo a definire quindi il mio compartimento andiamo ad aggiungere il piano della mia attività gli dico quelli che sono nel valore del carico di incendio per questo compartimento perché poi io potrei suddividere la mia attività in più compartimenti o comunque in più aree diverse potrei avere la zona vendita rispetto a quella che è la zona diciamo di produzione deposito e così via vediamo come si fa il calcolo diciamo del carico di incendio nel caso in cui io questo non lo conosco così da andare a rispondere alla domanda anche che è stata fatta in precedenza vado a premere sul pulsante carico di incendio ed ecco che in questo caso che cosa succede andiamo a posizionarsi nella informazione andiamo alla possibilità di poter scegliere un valore statistico quindi andiamo a scegliere dando a selezionare la voce mi cambia la voce nell'albero andiamo a selezionare un'attività simile a quella che abbiamo in essere ad esempio vediamo se c'è un negozio di alimentari e commercio e quindi vado semplicemente poi a scegliere l'attività risulta essere simile alla mia e quindi ottengo il valore del carico di incendio poi vado a indicare quelle che sono le valutazioni del rischio e quindi alla fine mi trovo nella sezione risultati e quindi c'ho il valore del QF e del QFD che interessano la mia attività oppure posso fare una informazione più specializzata e quindi vado nella sezione compartimento vado a dire che la mia attività io voglio calcolare il carico di incendio in versione tabellare mi ricambia il nodo dell'albero e qui posso andare a specializzare quelle che sono le informazioni presenti i materiali gli oggetti e la possibilità abbiamo creato di poter poi compattare a livello l'abbiamo chiamato una macro cioè potremmo creare per dire se il nostro negozio è il negozio di scarpe io mi potrei creare la macro scatola di scarpe che risulta essere costituita ad esempio da tot chilogrammi di cartone rispetto a tot chilogrammi di cuoio rispetto a tot chilogrammi di plastico quindi creare un pacchetto e andarlo a codificare così come abbiamo ampliato questo concetto perché io potrei fare il mio piccolo negozietto di scarpe inserirlo all'interno di questa maschera selezionare tutte le voci e esportarlo noi l'abbiamo chiamato come compartimento cioè come una struttura un'aggregazione di più prodotti di più a prodotti macro e così via in modo tale che la prossima volta se devo andare a fare se si chiamare semplicemente questo tipo di funzionalità o un qualcosa simile lo vado a riprendere dal mio archivio e poi lo gestisco all'interno del progetto corrente quindi semplicemente la possibilità di poter scegliere dei materiali quindi qui metto semplicemente delle voci così a caso oppure quello che possono essere dei prodotti quindi un tavolo e così via oppure quelle che potrebbero essere delle macro quindi quella che è un qualcosa che io mi sono dedicato in archivio oppure ora in questo momento non ne ho fatte però io potrei dire guarda che per me i due prodotti alcol bambù e sedia della cucina li posso esportare o come un compartimento o come una macro quindi gli dico macro 1 mi scompaiono dalla mia maschera e vado a codificarla in questo modo gli dico che di questo tipo ce ne ho 25 mentre di tavolo in legno ce ne ho 3 a questo punto che cosa succede? ho sempre i parametri che risultano essere quelli in precedenza in questo caso la valutazione tutti i parametri sono legati a quelle impostazioni che ho indicato nel capitolo della S3 e avrei alla fine un risultato per quanto riguarda sempre il Q con F e il QFG un attimo che c'è una domanda così mi piace a me rispondere in diretta man mano che sono posizionate le domande allora c'è una domanda che riguarda la valutazione del rischio nel software programma sicurezza lavoro allora la richiesta se devo acquistare un se devo acquistare questo aggiornamento o è compresa nel prezzo allora questa è una domanda interessante e che poi utilizzando la valutazione il suo interno non è assente come il suo interno è assente di come è fatta allora una bella domanda e vi ringrazio per questa perché ci consente di andare a specializzare questo tipo la risposta allora la norma riguarda il 3 settembre 2021 riguarda fondamentalmente i luoghi di lavoro occorre fare il DVR ne ipotizziamo che dobbiamo riaggiornare il DVR a questo punto occorre fare la valutazione del rischio di incendio all'interno del programma valutazione sicurezza lavoro si arriva semplicemente a codificare che cosa? a codificare il fatto che rientriamo nell'ambito di applicazione del rispetto dei requisiti del minicodice cioè rientriamo in questo ambito di applicazione dopodiché dobbiamo andare ad applicare le misure compensative a questo punto abbiamo due possibilità ma per fare questo tipo di valutazione occorre che siamo in possesso del pacchetto minicodice e in questo caso la valutazione delle misure compensative può essere fatta in maniera semplice all'interno del programma sicurezza lavoro dico semplice perché non c'è tutto questo inserimento dei dati ma c'è semplicemente andare a rispondere ad esempio il numero delle uscite di sicurezza è sufficiente rispetto ai requisiti del decreto 3 settembre 2021 in particolare come vedete qui il punto 423,1 che mi dice attenzione numero di uscite di sicurezza indipendenti non adeguato per l'affollamento previsto quindi lì io vado a rispondere altrimenti se non sono in passesso del pacchetto devo semplicemente non posso fare la valutazione delle misure compensative se invece voglio fare una valutazione più approfondita ecco che mi sposto nel programma che stiamo qui vedendo e vado a fare una analisi approfondita e dettagliata delle soluzioni e qui in questo caso sarà poi il programma stesso che mi dice guarda che non possiamo utilizzare il medicodice ma dobbiamo necessariamente passare al codice di prevenzione incendi quindi nel sicurezza lavoro mi fermo alla semplice valutazione di applicazione del decreto dei requisiti basso rischio del 3 settembre 2021 dopodiché la valutazione del rischio la posso fare la posso anche inserire manualmente quindi sarà poi un obbligo del professionista verrà inserito nella relazione vedi allegato sarò io che dovrò fornire un allegato in cui andrò a giustificare perché il rischio calcolato risulta essere basso e quindi vado a confermare questo e quindi vado ad applicare le misure del minicodice stesso però l'indirizzo è che chiaramente essendo un aggiornamento normativo un adeguamento sono state implementate e l'aggiornamento normativo anche per sicurezza lavoro quindi anche per il decreto legislativo 81 ampli all'ambito di applicazione del 3 agosto 2015 quindi si rimanda a una progettazione delle soluzioni compensative con il codice di prevenzione di incendi o il minicodice quindi eravamo arrivati alla nostra compartimentazione il problema la domanda è sempre una domanda diciamo che c'è un'altra domanda che riprende la prima il problema non è il costo del pacchetto anche perché è un costo irrisorio ma è il tempo che ci vuole ma questa la domanda la dovremmo rivolgere al legislatore che ci ha imposto di andare a specializzare a migliorare a definire in maniera quasi scientifica sia la valutazione del rischio all'interno della nostra attività sia le misure compensative da andare a fare purtroppo è vero è un costo è un problema per i piccoli luoghi di lavoro che è sicuramente un onere per la nostra attività purtroppo è la norma che ci obbliga a procedere in questo modo poi io professionista o datore di lavoro posso dire lascio le cose come stanno e fin quando non succede nulla o nel caso in cui non sono in regola poi chi vivrà vedrà e pagherà però se io voglio fare un lavoro diciamo da professionista attento io devo suggerire al mio cliente che ha una piccola attività lavorativa che nel caso delle modifiche sostanziali nel caso dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 81 e così via occorre rifare una valutazione del rischio e qui purtroppo dobbiamo dire guarda che con l'entrata in vigore dei decreti 1, 2, 3 settembre perché stiamo attenti noi stiamo facendo focalizzando l'attenzione esclusivamente sul problema della valutazione del rischio ma i decreti 1, 2 e 3 settembre in particolare 1 e 2 hanno ampliato io direi i costi o le responsabilità perditori di lavoro perché occorre fare che cosa? la formazione degli addetti antincendio occorre definire il registro antincendio e lo vedrete nei prossimi giorni nelle giornate dedicate ma soprattutto se andiamo a leggere l'articolo 2 del decreto 2 settembre 2021 occorre fare anche la norma dice occorre fare il piano di emergenza e nel caso anche andare a fare un sistema di sicurezza e gestione un SGSA all'interno della nostra attività e qui abbiamo poi noi il nostro pacchetto specifico sicurezza e gestione che va a seguire quindi non focalizziamoci l'attenzione solo ed esclusivamente su un aspetto che è uno degli aspetti quindi oggi con il legislatore di lavoro si troverà tra virgolette costretto nel caso peggiore a fare la valutazione del rischio definire il registro antincendio definire il piano di emergenza e fare un sistema di gestione la norma ci dice in esercizio ed in emergenza tutto questo noi lo possiamo fare all'interno del nostro pacco software in maniera del tutto automatizzata quindi all'interno a questo punto andiamo a allora c'è una domanda che magari questo poi vi invito a contattare diciamo dal punto di vista commerciale e le domande commerciale e rivolgerle poi direttamente ai miei colleghi perché fondamentalmente vi sapranno indicare quelli che sono i pacchetti che chiaramente interessano anche poi è da capire se uno è già cliente o è un nuovo cliente quindi magari i colleghi o li contattate voi direttamente o il pacchetto o li contattiamo o li contattiamo noi successivamente perché qui è più una dimostrazione diciamo dal punto di vista tecnico c'è una domanda tecnica allora di fatto la valutazione del rischio è diventata una progettazione senza elaborato grafico ma tecnicamente no perché io posso posso creare la planimetria devo fare nel piano di emergenza indicare le vie di estro è chiaro che qui stiamo parlando di attività minima perché non rientra nell'ambito di applicazione del codice del DPR 151 quindi diciamo le informazioni e la codifica che andiamo a fare risulta essere ridotta c'è un'altra domanda un'attività con CP vecchio deve aggiornare la valutazione del rischio con il decreto di settembre in altre parole per fare il VRI occorre ristudiare tutta l'attività no perché se io ho già un certificato di prevenzione incendi e questo in questo caso non rientra completamente nell'ambito di applicazione del mini codice il mini codice articolo 2 comma 1 dice per le attività soggette al DPR 151 questo decreto non si applica lì cosa dovremmo fare se cambia il carico di incendio che mi fa cambiare la classe entra in vigore che cosa l'articolo 6 comma 4 articolo 4 scusate comma 6 del DPR 151 che ci dice cambiano le condizioni occorre rifare la valutazione del progetto questo tipo di modifica per le attività soggette rientra già nell'ambito di applicazione delle condizioni che va a fare il DPR 151 quindi a questo punto ritorniamo per completare la nostra trattazione andiamo semplicemente a seguire le nostre informazioni e per ognuno delle voci andiamo a mettere quelle che sono fondamentalmente le specifiche richieste dalla norma quindi ad esempio controllo dell'incendio vi vado a dire la tipologia degli estintori che sono presenti per incendi di fuochi di classe A e quindi la soluzione conforme andiamo a definire che cosa a livello di informazione sono proprio la massima distanza di raggiungimento dell'estintore per quanto riguarda la rilevazione allarme andiamo a vedere il programma ci propone esclusivamente quelle che sono le informazioni legate al tutto in tempo reale io posso andare a premere sul pulsante aggiorna e andare a codificare quelle che sono le informazioni a questo punto il programma mi dice del day warning io vado a salvare il progetto posso e questa è una grande novità per chi conosce il software cpu in attività che nel caso specifico e solo se sto trattando un'attività un'unica attività decreto legislativo 81 io posso andare a creare la relazione tecnica anche in presenza di non conformità o comunque di non rispetto della norma perché queste le posso andare a considerare come come da inserire nel piano di miglioramento della mia attività quindi ad esempio ho solo un'uscita di sicurezza in base all'affollamento che ho inserito che ho fatto calcolare in automatico in base alla superficie della mia compartimento della mia attività e quindi magari da norme in base al valore della superficie occorre andare a specificare delle informazioni ecco che il programma se allarghiamo un attimo la maschera mi va a posizionare indicazioni sul piano di miglioramento quindi abbiamo divenuta questa idea quando ho sviluppato questo aggiornamento normativo mi dice guarda che questo è il punto della norma che non ho soddisfatto in particolare il punto 423,1 fermo restando che in questo momento non possiamo proprio applicare questo decreto ma nell'ipotesi che il nostro rischio è basso mi dice guarda che il numero di uscite inserite è 1 numero di uscite indipendenti è 2 qual è cosa devo che soluzione devo adottare che soluzione devo dire al mio cliente datore di lavoro occorre fare che cosa o creare una seconda uscita di sicurezza o verificare che ci siano le condizioni di ammissibilità di un corridoio cieco quindi di una possibilità di una sola uscita di sicurezza numero minimo di estintori di tipo classe minima 13A dobbiamo modificare e quindi aggiornare il tipo di estintori presenti la tipologia presente all'interno della nostra attività quindi ecco che questo è quello che poi andremo a riportare come nel DVR a livello di informazioni specifiche a livello di informazioni e la completa relazione tecnica in cui vengono poi ad essere indicate quelle che sono le codifiche legate al litere quindi al rispetto delle misure compensative le andiamo a legare a quella che è la progettazione il nostro DVR principale che abbiamo fatto con sicurezza con sicurezza lavoro a questo punto invece posso completare quindi abbiamo visto il carico di incendio abbiamo visto la valutazione del rischio posso già codificare il nostro piano di emergenza quindi andare a creare per caso specifico della nostra attività lavorativa tutta una serie di voci in cui vengono ereditate quindi le informazioni legate ai vari soggetti e così via la valutazione del rischio la struttura organizzativa e così via quindi ecco che in maniera del tutto integrata e poi potrò ho la possibilità di poter stampare la singola relazione in questo caso se voglio solo ed esclusivamente il piano di emergenza creo la relazione del piano di emergenza mentre se sono nell'ambito dell'attività nella sua globalità verrà ad essere inglobata la relazione del progetto attività con la relazione di valutazione del rischio del piano di emergenza e del carico di incendio se ho inserito le varie sezioni per completare la trattazione visto che il decreto mi dice guarda che il rischio è vero che in attività non soggetta ma in questo caso rientriamo nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto 3 settembre 20-21 non possiamo progettare secondo l'allegato 1 del 3 settembre quindi andiamo a eliminare il flag informazione che il programma mi dà in questa tipologia di codifica non la possiamo fare a questo punto che cosa succede? semplicemente andando a disattivare questa voce ecco l'automazione se ritorniamo nella sezione dati vanno a comparire ora tutte quelle che sono le informazioni legate alla trattazione ecco che la valutazione del rischio cresce a livello di difficoltà perché qui dobbiamo andare a definire le r vita le r beni se andiamo nel compartimento compaiono anche le altre due strategie che prima non c'erano la S1 e la S2 quindi ecco che dove per ognuna di queste occorre andare a specificare ma anche per tutte le altre strategie i livelli di prestazione e poi qui facendo tasto destro andiamo a scegliere soluzione conforme o soluzione alternativa quindi l'andare a rispondere alla domanda è cresciuta la difficoltà della valutazione del rischio sì ma è insita nel 3 settembre 2021 perché nel momento in cui si fa il richiamo al 3 agosto 2015 alla RTO di specifica è chiaro che il legislatore ha ampliato è chiaro che è un costo per l'attività ed è questo il problema grosso ma ripeto non è solo questo e diciamo a questo dobbiamo andare ad aggiungere il sistema di sicurezza gestione che possiamo andare a richiamare direttamente dal programma o nel caso di valutazione del rischio possiamo già anche andare a esportare o importare quindi nell'ipotesi ad esempio che io ho fatto sicurezza lavoro e poi mi sono creato tutti nel mio DVR tutti i miei ambiti tutti i miei reparti e così via per ognuno dei quali devo andare a specificare la valutazione del rischio io posso dal programma sicurezza e gestione aprire attività lanciare inviare ad attività l'elengo di tutti i reparti in cui devo andare a fare la valutazione del rischio in attività posso andare a in maniera come abbiamo visto molto semplice perché semplicemente dobbiamo andare a rispondere ai fattori moltiplicativi a inserire il carico di incendio quindi in maniera del tutto automatica vado a fare la valutazione qualitativa del semi quantitativa scusate del rischio rimando a questo punto la mia valutazione a sicurezza lavoro dopodiché allegherò chiaramente la relazione di valutazione del rischio che viene fuori da attività dopodiché posso decidere se andare a trattare poi le misure compensative in attività nel caso del rischio basso o anche non basso però senza una valutazione specifica come abbiamo visto quindi senza andare esattamente a specificare il numero la tipologia delle uscite di sicurezza la lunghezza del corridoio ma semplicemente andando a rispondere è verificato il tutto oppure andiamo a specializzare ma qui è una scelta del professionista o anche del titolare dell'attività quindi ecco una automazione quindi all'interno di un'unica piattaforma abbiamo fondamentalmente codificato tutto quello che è con una trattazione assistita perché il programma mi va a gestire in maniera automatica quindi man mano che io vado a inserire le informazioni il programma mi dice ecco che qui ora avendo aumentato avendo impostato il flag attività 3 agosto 2015 ecco che il numero di informazioni ecco che il richiamo ad esempio strategia S2 livello di prestazione non adeguato in questo caso non inserito livello inserito nessuno livello minimo 3 il punto è S2 3 del 3 agosto 2015 quindi ecco che la valutazione non diventa più complessa perché si amplia l'ambito di applicazione del 3 agosto 2015 detto questo io diciamo ho concluso in maniera così una pillola di quello che riguarda la nostra attività vi invito per chi vuole approfondire tutte queste specifiche tecniche relativamente a quella che è anche le indicazioni a livello commerciale a livello di quello che sono l'iter normativo e i programmi corretti quali sono i pacchetti specifici per andare a trattare in maniera completa ed esaustiva tutto quello che sono le indicazioni applicate dai decreti 1,2 e 3 settembre 2021 di rivolgervi ai nostri commerciali nella chat vi sono stati dati tutti i riferimenti vi ricordo lo sconto del 40% sui pacchetti per in occasione del break friday e vi ringrazio per la vostra collaborazione sono a vostra completa disposizione per poter approfondire per chi vuole basta inviare le mail ai colleghi del commerciale o direttamente alla mia e-mail che è p.monaco chiocciola edilizia da mirial punto it c'è un'ultima domanda per attività dotate di regola tecnica e quindi con scia antincendio valida cosa si deve fare come si fa la valutazione di una regola tecnica che è già verificata con il trascio di scia allora se io ho a che fare con una scia se ho come l'ho detto già all'inizio il il minicodice non c'entra nulla e se andiamo a leggere l'articolo 2 del decreto 3 settembre 2021 mi dice che se la mia attività è dotata ed è rientra nell'ambito di applicazione del dpr 151 quindi devo fare una valutazione del progetto o e o una scia il decreto non si apre entra qui in vigore che cosa articolo 4 comma 6 del dpr comma 6 dell'articolo 4 del pr151 che mi dice nel caso in cui l'attività ha già una scia e io faccio delle modifiche sostanziali devo rifare la valutazione del progetto non sostanziali e la differenziazione delle modifiche sostanziali o non sostanziali è indicata nel decreto 7 agosto 2012 l'allegato 4 mi indica l'elenco delle modifiche sostanziali io in fase di rinnovo faccio il pin 2 6 modifiche di non aggravio del rischio di incendio in cui elenco le modifiche che ho fatto rispetto alla precedente scia però la norma e il minicodice si applica esclusivamente alle attività non dotate di norma specifica altrimenti andrò a fare la valutazione del rischio andando a scegliere una delle attività che devo andare ad analizzare prendendo in considerazione che cosa nel caso la norma ci dice andando a fare una valutazione del rischio e qui poi nel caso di un'attività soggetta al codice di prevenzione di incendi o al DPR 151 la valutazione del rischio la posso fare o con il metodo che abbiamo visto quindi il metodo semi quantitativo o con altri metodi diciamo più differenti e addirittura ne stiamo implementando uno ancora più evoluto che ci consente di poter andare a definire in maniera diciamo matematica scientifica la definizione dell'RVita per tutti i nostri compartimenti ma anche dell'RB e anche del valore della nostra attività con un nuovo software che è in fase di test e che speriamo di completare entro fine entro quest'anno di passare i test e metterlo in distribuzione come chiaramente il nuovo pacchetto un upgrade di questa valutazione detto questo io vi ringrazio allora c'è ancora un'altra domanda che eventualmente visto che il tempo è allora quindi se non sono state fatte modifiche non si deve fare nulla secondo il 3 settembre e quindi quando si usa la maschera attualmente proiettata la maschera attualmente proiettata sì che sarebbe l'attività legislativa 81 e quando io faccio delle modifiche alla mia attività ma questo già lo dice il decreto legislativo 81 se il mio luogo di lavoro io faccio delle modifiche che cambia un macchinario cambia il carico d'incendio cambia il layout e così via occorre fare la valutazione del rischio il DVR occorre aggiornare il DVR in questo caso la valutazione quella relativa alle attività soggette al DPR 151 e quando mi cambia anche in questo caso vi invito a leggere il decreto 7 agosto 2012 che mi dice i casi in cui io devo rifare la valutazione del rischio incendio o comunque il PIN 1 valutazione del progetto non del rischio incendio devo rifare la valutazione ad esempio e poi concludo perché devo lasciare spazio agli altri colleghi per le altre demo nel corso della giornata ad esempio se io vado a fare a installare un impianto fotovoltaico all'interno della mia attività la domanda che mi devo porre è ho un incremento del rischio all'interno della mia attività se la risposta è sì devo rifare la valutazione del progetto e quindi seguo l'iter è come se partissi da zero valutazione del progetto scia per la mia attività anche se in possesso di CPI se invece la mia attività il mio pannello fotovoltaico lo classifico come non un rischio aggiuntivo in base del rinnovo del CPI alla sua naturale scadenza vado a dire vado ad allegare un adeguamento di non aggrave del rischio legato a questa installazione del pannello fotovoltaico installo le colonnine di ricarica delle macchine elettriche o rischio aggiuntivo valutazione del progetto e ripresento l'iter ma questo è già codificato oggi nel DPR 151 quindi è un qualcosa che già io devo conoscere e devo applicare se invece qui ho un luogo di lavoro che non rientra nell'ambito di applicazione del DPR 151 e il legislatore mi dice con almeno un dipendente ecco che rientra nell'ambito di applicazione devo rifare la valutazione del rischio sì il decreto legislativo 81 mi dice quali sono i casisti che poi nei prossimi giorni quando verranno trattate queste aree specifiche i colleghi vi saranno vi saranno specificare esattamente lo specifico detto questo a questo punto veramente se volete ci possiamo mi potete contattare via email possiamo continuare diciamo la discussione tecnica ma il mio il mio slot di tempo è concluso quindi vi ringrazio per la vostra attenzione vi ringrazio per le vostre domande spero di aver risposto in maniera esaustiva vi invito a contattare i nostri colleghi del commerciale che vi saranno dare tutte le informazioni in merito alle offerte in corso e tutto quello che riguarda anche l'iter tecnico da seguire per le attività da decreto legislativo 81 mini codice o dpr 151 grazie per la vostra attenzione e arrivederci e buona prosecuzione di giornata grazie per la vostra